Manuel racconta al gruppo dei concorrenti del grande fratello la sua salvezza lo deve a soli 12 mm, quella sera era andato con gli amici al pub dopo un compleanno finito presto. All'arrivo i ragazzi notano che le persone scappavano dal locale perché sarebbe successa una grossa lite. A quel punto Manuel con gli amici decidono di andarsene e cambiare strada, ma una volta allontanatosi, si ferma ad acquistare le sigarette al distributore automatico. Proprio gli due sullo scooter sparano e lo colpiscono Manuel a quel punto impaurito pensa di non farcela chiama alla fidanzata i quali stavano insieme da un mese e decide di dirle che la ama. Così Manuel da quel momento ha perso l'uso delle gambe. La sua forza è quella di aver avuto una seconda possibilità in quanto come da lui descritto credeva di dover morire. Il racconto di Manuel viene ascoltato dai ragazzi mentre Manuel a tratti e sorridente da lui forza ai ragazzi? Questo è un grande atto di forza. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella canale YouTube Fabio Pecce.